L'assessore Negretti ha Muggiò per distribuire l'acqua. Può fare il punto della situazione? Sì, i tempi non posso stabilirli io. Noi ovviamente ci siamo organizzati con la protezione civile proprio per dare conforto e vedo che stanno arrivando tante persone per cui credo che la situazione sia importante. Noi abbiamo fatto, come ho già detto, uno scenario maggiore per cui siamo pronti anche all'evenienza peggiore. Quanti litri d'acqua più o meno avete stimato di portare alla gente? Guardi, in questo momento proprio il numero preciso non lo so, credo che distribuiamo tre sacchi d'acqua a testa poi se qualcuno ha necessità prioritarie per l'amor del cielo, cioè ci si viene incontro. Sono circa le 20, più o meno fino a quando resterà qua il punto di presidio? Il punto di presidio rimane qua e qua e ricordo che c'è anche l'altro, il largo silo, rimane fino a quando c'è l'emergenza. Assolutamente non possiamo, l'acqua è un bene importante quindi non possiamo privare. Fino a quando io non ho la risoluzione del problema stiamo qua.